Allora ragazzi, avete visto qui il programma di oggi? Torbjorn, stasera tu suonerai la chitarra, vero? Sì, ma è già tutto esaurito. Grazie, Rosis. Quali obiettivi orientali sarebbero? Non ne abbiamo più, la ragione. Non può non avere il wifi. No, no, lo so. Non è possibile che noi abbiamo il wifi, ma purtroppo a volte non funziona bene. Però, Inglia, lo sistemeremo. Roger, fermati. Che c'è? Vai a sistemare la rete. Di nuovo? Sì. Ma è uno scherzo questo. Fai in fretta, per favore, dai. Calvati, Eva, andrà tutto bene. Fai in fretta, per favore, dai. Allora ragazzi. Grazie a tutti.